Albano si sfoga e svela sua pensione, non capisco come sia possibile. Una cifra incredibile. Da giorni circola in rete il valore della pensione percepita da Albano Carrisi. Ha pagato da quando era contadino, una cifra incredibile. Il periodo non è certo dei più semplici anche per un personaggio del calibro di Albano Carrisi. Parliamo di uno dei cantanti che ha fatto la storia della musica italiana, riconosciuto a livello internazionale. In questo momento eccezionale segnato dalla pandemia che non consente a lui e altri artisti di fare concerti. Albano ha espresso il suo malcontento rispetto al valore dell'assegno pensionistico percepito. Per questo motivo Albano è finito al centro del dibattito pubblico. Ha infatti fatto scalpore un'intervista nel corso della quale il cantante si è lamentato dell'assegno troppo basso di pensione che percepisce attualmente, svelando la cifra che l'Inps gli versa ogni mese. Rivelato quanto prende al mese di pensione Albano. Albano ha dichiarato che il suo assegno pensionistico ammonta la cifra di 1. 470 euro al mese. Una somma che oltretutto è aumentata di recente, stando a quanto l'artista ha spiegato al giornalista, fino a qualche mese fa erano soltanto 1.370. Non capisco come sia possibile visto che nella mia vita ho sempre versato i contributi, fin da quando ero contadino qui in Puglia e poi metalmeccanico a Milano. Una constatazione amara, e fa anche una certa impressione che una persona così famosa, una vera e propria eccellenza nel suo lavoro, possa ritrovarsi con una pensione così bassa arrivato alla fine della sua carriera. Il cantante ha poi continuato l'intervista commentando il difficile momento storico in cui ci troviamo, anche perché, il coronavirus ha costretto il mondo della musica e dello spettacolo a chiudere i battenti. La sua speranza quindi, è che questo 2021 segni la fine della pandemia e si possa ritornare alla normalità e a cantare in piazza e negli stadi. Grazie a tutti! Grazie a tutti.